Soffrire perché, sinceramente, sono stonato come... E poi questo testo fu anche cantato da Raff, assieme a Tuzzi, quindi hanno fatto anche in due, quindi... Un po' di storia della musica fa anche bene. Allora ascoltiamo il duo Mavilla, che siete cugini, è vero? Sì, sì, sembra di sì. Ma veramente? Sembra di sì, il primo grado, sì. Ah, mi fa piacere, no, no, io domando, mi fa piacere. E ascoltiamo la bella voce di Marcus e Erni. Grazie. In Mavilla. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui? Perché non parti, per un weekend, che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca, cosa non hai, cose che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea, che ti apre una via, e la tieni con te, o ne segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù. E per loro tu puoi fare di più. In questa barca, persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle buffere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in tv, e non puoi dire, lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi, si può dare di più, senza essere eroi. Come fare, non so, non lo sai neanche tu. Ma di certo si può dare di più, perché il tempo avrà sulle nostre vite, E se parlo con te, e ti chiedo di più, è perché te sono io. Non solo tu, non solo tu. Si può dare di più, perché dentro di noi, si può dare di più, senza essere eroi. Come fare, non so, non lo sai neanche tu. Ma di certo si può dare di più. Come fare, non lo sai neanche tu. Ma di certo si può dare di più. E un bel messaggio, si può fare di più, ma si può dare anche di più. E anche il nostro pubblico da casa può dare di più. Basta chiamare allo 0823 51 32 22, entrate in diretta con noi, fate un salutino, una richiesta. Ci fa veramente piacere. Ovviamente anche alla regia, le smistiamo insieme. E allora, adesso abbiamo ancora il palco. Un saluto alla signora Giovanna da Fratta Maggiore. Sì, lo salutiamo. E alla sua famiglia. Assolutamente. E al signor Ruggero da Sisi. Ah, perfetto, che lo salutiamo. E allora, signor Lino, qui al centro del palco, ascoltiamo un altro bello.